E' nuovamente emergenza Gattini ad Arezzo con l'arrivo della bella stagione come sempre infatti sono molti cuccioli che hanno trovato per il momento un rifugio alla Canile e a Retino ma che adesso cercano una famiglia. Tantissime cucciolate, fortunatamente anche se è la stagione estiva delle vacanze siamo riusciti a darne alcuni, però per ognuno che ne esce generalmente ne entra due. Quest'anno è stato anche purtroppo un numero elevato di gattini appena nati lasciati nei posti più disparati dal cassonetto fino al cielo della strada come stanotte. Qui abbiamo anche bisogno di persone che abbiano passione e che ci facciano da balie e ne abbiamo diversi numeri di persone però purtroppo sono già quasi tutte piene. Cos'è una balia? Una balia è una persona con tanto coraggio, tanta passione che affronta la crescita di un gattino anche di pochi giorni di vita, ogni due o tre ore va allattato, va aiutato in tutte le sue cose, pulito, quindi è una cosa impegnativa. Ecco ci sono comunque le gattine che adesso stanno cercando famiglia. Sì, sì, speriamo che vengano numerosi perché siamo veramente al completo. L'appello come ogni anno però è la sterilizzazione per non ritrovarsi in situazioni così tutti gli anni. Esatto, esatto, la cosa più importante è la sterilizzazione anche per evitare malattie come la leucemia e l'AIDS.